Un cordiale saluto, ben ritrovati anche questa domenica all'appuntamento con il nostro Tg Abruzzo. In apertura la cronaca un brutto incidente in mattinata lungo la Statale 16 tra Martinsicuro e Villarosa. Un motociclista dopo essersi scontrato con un'auto è rimasto gravemente ferito, è intervenuto anche l'elisoccorso. Gravissimo incidente stradale nella mattinata di domenica lungo la Statale 16 nel tratto tra Martinsicuro e Villarosa. Un motociclista infatti all'altezza dell'intersezione con Via Civita si è scontrato con una lancia delta. Probabilmente da una prima ricostruzione fatta dai carabinieri intervenuti tempestivamente sul posto, il conducente della macchina, una donna, stava facendo inversione a U senza accorgersi del passaggio del Centauro. Quest'ultimo appunto ha avuto la peggio, tanto che è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. Il motociclista sarebbe finito prima sul guardrail per poi essere catapultato nel dirupo sottostante la strada, restando gravemente ferito tra i rovi presenti in quell'area. L'uomo è stato stabilizzato sul posto dai sanitari del 118, che poi hanno allertato l'elicottero per il trasferimento d'urgenza all'ospedale Mazzini di Teramo. L'incidente è avvenuto poco prima delle 10. Intervenuta anche la polizia, che ha provveduto alla chiusura della strada per tutto il tempo necessario a rimuovere i veicoli coinvolti e consentire soccorsi sia all'automobilista che al Centauro. Il traffico in direzione sud per circa un'ora e mezza è stato deviato in via dei Castani, con la pattuglia della polizia che ha bloccato tutti già all'altezza della rotatoria. Strada poi riaperta più o meno intorno alle 11. Sulle cause dell'incidente comunque sono ancora in corso i rilievi da parte dei carabinieri e della stessa polizia per accertare le responsabilità dello schianto. In base alle prime indiscrezioni, le condizioni del motociclista sarebbero piuttosto gravi. Ed ora torniamo ad Alba Adriatica, dove ieri spiaggia si è scatenato il panico a seguito di un fulmine che è caduto colpendo alcuni bagnanti. Sì, tre le donne ferite, la più grave una 41enne del posto, andata in arresto cardiaco e poi trasferita in eleambulanza anche all'ospedale Mazzini di Teramo. Shock, appunto, dicevamo, tra i presenti. Allora andiamo a sentire il servizio di Luigi Miozzi. Tragedia sfiorata ad Alba Adriatica poco dopo mezzogiorno, dove un fulmine ha colpito tre persone che si trovavano in spiaggia. Per una giovane mamma di 41 anni si è reso necessario il trasferimento in eleambulanza all'ospedale di Teramo dopo essere finita in arresto cardiaco. L'incidente si è verificato tra gli stabilimenti Icaraibi e il piccolo chalet sotto gli occhi increduli delle altre persone che stavano trascorrendo la mattinata al mare, fino a quando non si è assistito ad un repentino cambio delle condizioni meteo. Prima il boato di un tuono che ha squarciato la tranquillità del momento, seguito da un lampo di un fulmine che ha colpito le tre persone, tra le quali due donne che sono stramazzate a terra sotto gli occhi increduli degli altri bagnanti, alcuni dei quali, impauriti, hanno in fretta e furia abbandonato la spiaggia. Immediatamente sono scattati soccorsi e sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato tre ambulanze e ha richiesto immediatamente l'intervento dell'elisoccorso. Appena giunto sul posto il personale sanitario ha provveduto a fornire le prime cure alle due donne e se una di loro si è ripresa quasi subito, a preoccupare maggiormente era la giovane mamma le cui condizioni sono apparse subito gravi, tanto da rendersi necessario praticarle un massaggio cardiaco. Dopo averla soccorsa e rianimata, la donna è stata trasportata a bordo di un'ambulanza nei pressi dell'area protetta di Alba Adriatica, dove nel frattempo era atterrata l'eliambulanza, che dopo aver caricato la donna a bordo è ripartita alla volta dell'ospedale Mazzini di Teramo, dove ora la giovane mamma si trova ricoverata e viene tenuta costantemente sotto osservazione. Anche gli altri due feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Giulianova per essere medicati e sottoposti ad ulteriori accertamenti. Quando è accaduto il fulmine, la spiaggia era ancora molto affollata e tra i testimoni di quanto accaduto c'è chi ha parlato di vere e proprie scene apocalittiche. Nelle ore precedenti la protezione civile regionale aveva diramato un bollettino di allerta gialla per temporali di forte entità anche lungo la costa. A Pescara finti documenti del comune utilizzati per truffare persone sul web. Il sindaco Masci mette i cittadini in allerta. Documenti finti del comune di Pescara per mettere a segno truffe sul web e convincere le persone a condividere dati sensibili o effettuare pagamenti. Atti in tutto e per tutto simili agli originali, recanti anche le firme dei dirigenti preposti, ma privi in realtà di qualsiasi valore con i quali i truffatori hanno convinto una persona ad aver registrato un atto transitorio. È quanto avvenuto nelle ultime ore appunto a Pescara con il comune che ha avvisato tutti attraverso i social e gli altri canali di informazione. Sulla vicenda, il primo cittadino Carlo Masci invita tutti a prestare la massima attenzione. Nelle ultime ore è arrivata al comune di Pescara la segnalazione di truffe online realizzate con l'utilizzo di documenti falsi dell'amministrazione, scrive il sindaco. È importante prestare massima attenzione perché si rischia di finire nel mirino di impostori senza scrupoli che non hanno difficoltà a falsificare gli atti del comune di Pescara con le relative firme dei dirigenti pur di raggiungere il proprio scopo. Masci continua, dopo esserne venuti a conoscenza abbiamo provveduto a sporgere denuncia ma è fondamentale che anche i pescaresi tengano gli occhi ben aperti perché ci sono truffatori sempre più esperti che affinano continuamente le proprie tecniche e riescono a raggirare le vittime mostrando documenti che sembrano veri, molto rispondenti agli originali, ma non è così. Un esempio è rappresentato da un atto di registrazione di un contratto ad uso transitorio. Il file, consegnato dai truffatori al soggetto che ha sottoscritto un contratto, sembra in tutto e per tutto vero, ma si tratta di un clamoroso falso a partire dalla firma del dirigente per cui è fondamentale effettuare tutte le opportune verifiche perché, per chi non lo sapesse, il comune non ha alcuna competenza in materia di contratti tra privati e tanto meno di alloggi, eppure, prosegue Masci, c'è chi ha messo in circolazione un documento del genere. Insomma, quello che può apparire come un atto del comune che conclude e valida una qualsiasi procedura non ha alcun fondamento, oltre ad essere falso. E restiamo a Pescara per parlare dell'area di risulta. Pettinari all'attacco, si perderanno tanti posti auto, dice delle attuali 1.300 nel lato sud, ne resteranno soltanto 320. Sentiamo Matteo Porfiri. Sulle aree di risulta di Pescara e sui lavori interviene il consigliere comunale della lista Pettinari Sindaco, Domenico Pettinari, che nel corso di una conferenza stampa proprio nell'area dell'ex stazione ferroviaria di Pescara ha rivelato che c'è una scoperta clamorosa fatta leggendo il progetto di fattibilità e tecnico-economico dell'area di risulta. Con il primo lotto dei lavori, secondo Pettinari, si prevede che degli attuali 1.300 posti del lato sud ne rimarranno solo 320, posti che, con eventuali ulteriori possibili fondi, potrebbero diventare 800. Ma non saranno mai gli attuali 1.300, ribadisce Pettinari. Per il secondo lotto di lavori, che devono ancora partire, si prevedono 1.900 posti invece degli attuali 2.329 e quindi ci sarà una perdita di parcheggi e posti auto rilevante sia attualmente che al termine dell'intervento. Questa cosa, prosegue Pettinari, viene giustificata con un aumento dei costi e così tante persone sceglieranno di andare a fare spesa nei centri commerciali invece che a Pescara, dove troveranno tanti posti auto e gratuiti. Quindi i commercianti che sono sul piede di guerra per la situazione lavori e parcheggi, quando conosceranno questi numeri, saranno ancora più arrabbiati, per non parlare, conclude Pettinari, del parco verde con una zona di 13 ettari che sembrerebbe essere a verde solo per 4-6 ettari. Noi, per queste cose, conclude Pettinari, bocciamo l'area di risulta che doveva essere un'area attrattiva per la città con un grande parco verde e tanti parcheggi. Ed ora il calcio, prosegue la preparazione del Teramo in vista del prossimo campionato di Serie D, il punto di Giussi Cingoli. Siamo qui presso il Dino Besso di San Nicolò a Tordino, dove è appena terminata la partitella in famiglia. Il tecnico Marco Pomante ha fatto svolgere un allenamento congiunto ai Soi, dopo che la squadra si era allenata anche in mattinata, e dopo l'annullamento del test amichevole a Roccaraso contro la Casertana. Un città di Teramo che è stato inserito nel girone F del campionato di Serie D, un girone competitivo, un Teramo che è ancora vigile sul mercato. Ora andiamo ad ascoltare le dichiarazioni del direttore sportivo Paolo Dercole. Partivamo nel girone F, lo sapevamo, bene o male le squadre erano quelle che ci aspettavamo, sono state confermate anche le laziali dell'anno scorso, quindi Roma City e il Sora. Quindi diciamo che il girone era quello che ci aspettavamo, pensavamo forse che partiamo con 20 squadre, è rimasta a 18, va bene così. Per quanto riguarda la nostra posizione, penso che non possiamo stare a pensare oggi qual è la posizione, dobbiamo fare il massimo che possiamo fare. Le squadre favorite sono quelle che hanno comunque dichiarato apertamente che vogliono giocarsi il campionato fino alla fine, noi saremo lì per dargli fastidio, poi vedremo cosa succederà. Quindi le squadre che partono favorite sono l'Aquila, la San Benedettese, il Teramo comunque punta a fare un campionato in alto? Il Teramo punta a fare il massimo che deve fare come è partito due anni fa, come è partito l'anno scorso e quest'anno parliamo di Serie D, quindi partiamo con un campionato nazionale, campionato con tantissime squadre in questo girone che è molto difficile, tantissime squadre importanti, tante piazze importanti che questo non è da sottovalutare, vedremo poi cosa succederà, anche c'è l'Ancona, perché la gente sta pensando a tutte queste altre squadre, ma comunque c'è l'Ancona, c'è la Città Novese, ci sono tante squadre importanti. La sorpresa quale potrebbe essere? Speriamo di essere noi. Facciamo anche il punto sul mercato, a che punto siamo del mercato e cosa stai guardando? Insomma, nomi non ne fai, ma il Teramo ha una rosa competitiva, qual è il reparto che va puntellato, dove hai puntato l'obiettivo? Ma non ci sono reparti specifici, bisogna guardare un po' tutto, bisogna vedere quello che il mercato ti offre, quello che è la necessità della squadra, vediamo quello che ci offrirà e al momento siamo contenti del lavoro che stanno facendo, perché stanno facendo un grandissimo lavoro, oggi è l'unico giorno che non c'è il caldo, quindi hanno sofferto tanti, iniziamo a respirare un po' e stanno lavorando benissimo, questo non avevo dubbi, perché questo staff è qui da tre anni per un motivo specifico, perché sanno lavorare bene e quindi sanno dare e cacciare qualcosa in più anche ai ragazzi che devono ancora crescere. A Scania è andato via, di Giacomo state valutando se tesserarlo? Di Giacomo c'è soltanto una questione di trattative tra società, quindi penso che potremmo chiudere, ma parliamo di un ragazzo del 2008, quindi un ragazzo che deve ancora crescere tanto, che deve ancora fare tanta strada, si sta disimpegnando bene, vediamo cosa succederà. Non ci sono altri aggiornamenti per questa edizione del TGA è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci.